Affrontare le problematiche connesse alla viabilità in costiera amalfitana dopo le giornate di gran caos che hanno determinato grossi disagi non solo alla circolazione ma anche al tessuto economico della divina. Accolta la richiesta di un incontro urgente formulato dal presidente della conferenza dei sindaci della costa d'Amalfi, Giovanni Di Martino, il prefetto di Salerno ha tenuto questa mattina un tavolo tecnico con i sindaci e tutte le rappresentanze istituzionali e i comandanti provinciali di Carabinieri, Guardia di Finanza, il dirigente della Polizia Stradale di Salerno, il dirigente della Polizia Provinciale e il capo compartimento dell'ANAS. La costiera si trova di fronte ad un problema di vivibilità e sicurezza, hanno rimarcato stamani alcuni sindaci chiedendo in prima istanza una limitazione del traffico pesante sulla statale 163. Abbiamo cominciato una stagione in maniera particolarmente critica, al di là delle giornate pasquali o del ponte del 25 aprile il problema è diventato strutturale e quindi la necessità di fare questo incontro per trovare insieme alle altre amministrazioni, alle forze dell'ordine, alla prefettura delle soluzioni in grado di dare più vivibilità e più sicurezza alla costiera, quello che è mancato in queste ultime settimane. Sicuramente occorre limitare, soprattutto e in particolare, il traffico dei mezzi pesanti che per le caratteristiche strutturali delle nostre strade non consentono una gestione di un flusso così massiccio. Questo potrebbe essere uno dei primi interventi da fare in maniera risolutiva ma speriamo che escano delle soluzioni importanti, c'è necessità di rafforzare e migliorare il sistema anche degli ausiliari della viabilità ma limitare le deroghe, questi sono provvedimenti che a stagioni in corso potrebbero a nostro parere garantire una maggiore sicurezza, una maggiore vivibilità. Sicuramente le soluzioni ci sono e vanno attuate. Noi già stamattina abbiamo fatto un'ordinanza per limitare la sosta all'interno della nostra circolazione ma ripeto è un paliativo, è solo per avere una maggiore sicurezza all'interno di Positano per quanto riguarda le autoambulanze e quant'altro però oggi ci aspettiamo un risultato importante. Noi vogliamo la limitazione dei pullman che arrivano in Costiera sulla statale 163 vorremmo che dal 2018 le misure non superassero i 7,50 metri almeno per quello che riguarda il sindaco del comune di Positano e la comunità di Positano e poi dalla regione ci aspettiamo che con questo grosso finanziamento di 100 milioni ci sia veramente la capacità di migliorare quello che è la viabilità in costa da Malfi senza distinzioni tra politica o appartenenze ma in modo serio e costruttivo. Noi abbiamo non più di quattro criticità in Costiera che sono lo svincolo di Positano, Preano, Castiglione, Minuri e Cetara mi sono sbagliato sono 5 non è che ci vuole molto per risolverlo con 100 milioni di euro secondo me si risolve ampiamente il problema.